Ciao, su Spettacolomania, Lorenz Saint-Victor, benvenuti, come sei? Sono meraviglioso, sono meraviglioso. Mi sento bene, molto bene. Ok, sei un cartero in Beautiful, sei un giudice, un direttore, e hai lavorato per i festeggi di Forrester, molti festeggi. Molti festeggi, ho perduto il conto, non mi ricordo quanti festeggi. Stai lavorando tantissimo. Non posso... Stai lavorando molti festeggi. Sì, sì, molti festeggi. Cosa ti piace del cartero, quello che ti piace di questo uomo, di questo uomo? Mi piace che ha voglia di trovare l'amore, al final del giorno, ha voglia di trovare l'amore, di questo motivo penso che è un grande amore, e che funziona davvero bene l'office. E' sempre cercato di trovare l'amore, e di dare l'amore, ma ha avuto un difficile di trovare l'amore. Mi piace proprio la sua ricerca del grande amore. Penso che sia anche per questo che lui è una brava persona, un buon amico, perché è sempre teso verso l'amore. Anche se ha un po' di problemi a trovarlo, un po' di problemi a tenerlo. In Italia, Bets, hai un amore, no? Hai una storia, una storia, una storia. Sì, stiamo... Siamo un anno in avanti che sei qui, quindi cerco di non spogliare niente. In America, in realtà, noi siamo un anno in avanti nel tempo di Beautiful, quindi non voglio assolutamente rovinarvi la sorpresa, ecco. Io credo che qui siete Carters con Paris in questo momento, che già ha un po' di problemi, ha un po' di problemi collegati a questo. Sì, penso che al momento Carter stia con Paris in Italia, per dove siete voi in Italia, e che già ci sono dei grandi problemi. Sì, ok, Paris, e ora mi ricordo. Ok, tu sei un po' di scrittura di Beautiful, dove ricevete le vostre idee? Beh, Brad Bell, il produttore di esecutivo, viene con le idee, le storie, la grande visione di tutto, e il nostro lavoro, come scrittori, è vedere quella visione e vedere cosa possiamo aggiungere. Beh, noi fortunatamente lavoriamo con Brad Bell, che è il produttore e il produttore, e lui ha una visione molto chiara, e la nostra bravura come scrittori è proprio capire la sua visione e aggiungere a quella visione quello che possiamo aggiungere di nostro, ma sempre seguendo lui. E anche la nostra ispirazione parte sempre da Brad, parte sempre dalla sua visione e dal suo lavoro. e la vera domanda che ci facciamo è cosa possiamo aggiungere a quello che Brad ha già messo sul tavolo. e quindi, sei felice di fare 6 patti in Roma? E ti piace la Roma? È la prima volta? Sì, è la mia prima volta e mi piace, è bellissima l'architettura, la città, la città è davvero buona. Quale è la vostra città preferita? Sto provando tutto, l'ultima notte ho avuto il rigatoni, che era incredibile, ho avuto la pizza per l'esterno, tutto è stato davvero buono. Ok, il piatto romano è pasta, cacio e pepe. Pasta, cacio e pepe. C'è il testo? Pecorino, pepe e pepe. Molto bene. Ok, dovrei avere questo. Sembra di fettuccine Alfredo. Ok, ok, sì. Sì, provo questo per sicuro. Grazie molto. Grazie, grazie. Ciao, Spectaculomania.